Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart e in studio Andrea Biagioni. Partiamo ancora dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Firenze Sud e in Cisaregello e in direzione Roma. In Fipilì si segnala che a causa di lavori nel ramo di Livorno fino al 5 luglio saranno in vigore restringimenti di carreggiata dal chilometro 59 e 900 al chilometro 60 e 600 in direzione mare. Sulla regionale 302 brisichellese ravennate inoltre per lavori di asfaltatura a senso unico alternato in orario 8-18 dal chilometro 14-910 al chilometro 27 fino al 19 luglio. Chiudiamo con i treni a causa di un guasto agli impianti di circolazione tra Buon Convento e Monteroni. I treni sulla linea Siena-Grosseto potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Il dettaglio sui nostri canali social. Per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!